Una donna speciale, madre di quattro figli, studiosa, instancabile e rigorosa nei campi della ricerca storica, documentale, artistica, archeologica e territoriale, appuntata soprattutto sul territorio cremasco, è Maria Verga Bandirali scomparsa a 100 anni nel febbraio 2022, a cui ieri in una sala Pietro Dacemmo gremita la comunità cremasca ha voluto rendere omaggio. L'incontro è stato organizzato dalla delegazione FAI di Crema, a cui Maria Verga Bandirali era iscritta. A relazionare sul contributo importante dato dalla studiosa, quale attenta ed esemplare interprete di alcuni aspetti dell'arte rinascimentale a Lombarda, Paola Venturelli, storica dell'arte ricercatrice. La professoressa Maria Verga Bandirali è stata una grandissima, raffinatissima storica dell'arte e storica in generale e ha affrontato con un'acutezza, una profondità davvero incredibile, tanti temi della storia dell'arte di Crema, del cremasco e di Offanengo, naturalmente il posto dove lei aveva deciso di vivere e alla quale ha dedicato tantissime energie appunto come studiosa. Fu infatti la fondatrice del Museo della Civiltà Contadina di Offanengo, un luogo fisico in cui si conserva la ricca memoria delle tradizioni e il recupero dei valori positivi di un mondo rurale a rischio di dispersione. Una figura dunque quella di Maria Verga Bandirali che rende onore e vanto alla sua patria, alla cui valorizzazione ha dedicato una parte importante della propria attività, come insegnante e come studiosa. E quindi sono particolarmente felice, ringrazio appunto sia il museo, l'assessora, il FAI perché mi hanno dato e mi danno questa possibilità di parlare di Maria, per me una grande amica.